Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. L'unione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembrava scritta nelle favole, ma ora è diventata argomento caldo nel mondo del gossip per il presunto tramonto del loro rapporto. Dopo aver trascorso del tempo insieme in Argentina, la coppia è tornata a Milano, dove le cose hanno preso una piega inaspettata. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, Moser avrebbe commesso un tradimento, abbandonando la residenza condivisa con Cecilia. Le voci di questa rottura trovano eco sui social media, dove è stato notato che Cecilia ha smesso di indossare l'anello di fidanzamento ricevuto da Moser pochi mesi fa, simbolo del loro impegno a sposarsi. Nonostante l'assenza di confermi ufficiali, la mancanza dell'anello e il fatto che entrambi mantengano le foto di coppia sui loro profili social alimentano ulteriori speculazioni, la notizia ha lasciato i fan visibilmente sconvolti, soprattutto perché il matrimonio era atteso per ottobre di quest'anno, seguito da una romantica proposta lo scorso 13 settembre. In quell'occasione, Ignazio aveva dichiarato il suo desiderio di condividere la vita con Cecilia, descritta da lei come la persona più tenera. E voi cosa ne pensate? Sarà davvero giunta al termine la favola fra Ignazio e Cecilia? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.